Quello che sto per presentarvi è il C27J Spartan, velivolo bimotora dalla alta per il trasporto tattico a medio raggio in dotazione alla 46esima brigata aerea e al reparto sperimentale di volo. Entrato in linea del 2006 è la diretta evoluzione tecnologica di un altro velivolo che è stato a lungo in dotazione dell'aeronautica militare, il G222, progettato dall'ingegner Gabrielli, un'assoluta eccellenza italiana in campo aeronautico. Rispetto al suo enterato il C27J gode di un sistema di autorifornimento in volo, di un sistema di autoprotezione, di nuovi gruppi populsori e di un'avionica avanzata che include un sistema di proiezione dati d'avanguardia con digital map e doppio DAP display. Ognuno dei due gruppi propulsori del C27J è costituito da un motore Rolls-Royce AE2100D2 da 4700 CV e da un'elica d'auti R391 a passo variabile con pale a scimitarra in carbonio e fibra di vetro. Grazie a questa dotazione il C27J può sollevarsi con un peso massimo al decollo di 30.500 kg, spingersi a una velocità massima di 480 km orari o a una quota di tangenza di 30.000 piedi, oppure anche andare in retromarcia. Il carrello triciclo retraibile e sterzante ad assetto variabile è una delle caratteristiche tecniche che contribuisce maggiormente alla versatilità di questo velivolo. Permette l'atterraggio anche su piste semipreparate o deteriorate. Inoltre è dotato di un meccanismo continuo di estensione degli ammortizzatori che permette di regolare, indipendentemente e in modo puntuale, l'altezza del carrello anteriore e di quelli principali, garantendo una capacità di caricamento e scaricamento ottimizzata. Il velivolo ha dimensioni tutto sommato contenute. È largo appena 28,70 metri, come un campo da basket. È lungo 22,70 e alto 9,64. Tuttavia, si è dimostrato particolarmente flessibile nell'impiego. Grazie al suo vano di carico, in grado di sopportare fino a 5.000 kg a metro quadro, può trasportare fino a 42 passeggeri, a violanciare carichi fino a 9.000 kg o effettuare trasporti sanitari. Cambiando rapidamente configurazione. Le caratteristiche più peculiari del C27J rimangono comunque la sua agilità e la sua manovrabilità. È infatti in grado, in condizioni standard, di esprimere una corsa di atterraggio e una corsa di decollo pari ciascuna a circa 300 metri. Immaginate che il C27J potrebbe atterrare e direttamente ridecollare da uno spazio come il Circo Massimo. Infine, è l'unico velivolo della sua categoria in grado di effettuare vere e proprie manovre acrobatiche. Questo anche grazie ad opportune valvole a farfalla, posizionate nei serbatoi principali che si trovano all'interno delle semiali. Tali valvole mantengono sempre immerse le pompe carburante indipendentemente dall'assetto del velivolo. Insomma, il C27J potrà sembrare piccolo per la sua categoria, ma è pieno di risorse. Grazie.